Mi chiamo Fabrizio Moscon, ho sviluppato un'applicazione telefonica che si chiama Oxfone, che permette di parlare con l'Italia o con altri paesi direttamente dal tuo cellulare utilizzando dei numeri di telefono del paese che vuoi chiamare e che funzioni in maniera conveniente ed efficace. Ad oggi è disponibile nel Play Store di Google ed è scaricabile tramite il mio sito internet se visitate, ci sarà il sito nella descrizione, potete lasciare la vostra email e partecipate al programma di beta. La cosa fondamentale di questa applicazione è che aiuta parecchio persone che ricevono telefonate da diversi paesi su un unico cellulare, quindi persone che o sono espatriati o che viaggiano parecchio o che per un motivo o per l'altro non vogliono fare uno scambio di SIM o non vogliono portarsi appresso due cellulari. Quindi Oxfone è telefonate senza confini.